Si è conclusa con un rinvio al 10 ottobre l'udienza preliminare tenutasi questa mattina in tribunale a Sondrio sul caso Exfalc. Il giudice designato, Pietro Della Pona, presidente di sezione penale, si è astenuto dal decidere avendo già trattato la materia nel 2001 quando, a seguito di apposita perizia effettuata, si era proposto decreto di archiviazione. Per ragioni di opportunità, quindi, è parso doveroso al magistrato mettere a verbale la sua stensione e rinviare l'udienza di un mese. In quella sede si saprà se la richiesta è stata accolta e nel caso quale sarà il giudice incaricato di esprimersi circa il rinvio o meno al giudizio dei 13 indagati fra vertici della Società Novate Minerari e SRL, Marco Pensa, Marco Butti, Aldo Cappi e Dario Comini, della Nova Min S.p.A. Giuseppe Bartolini, della provincia di Sondrio Daniele Moroni e Gian Battista Bertussi, di Arpa Sondrio, Carlo Pellegrino e Maurizio Tagni e di Regione Lombardia Nicola Di Nuzzo, istruttore referente nel procedimento amministrativo di bonifica dell'ex area FALC. Unitamente alla Novate Metallurgica, Nova Met S.p.A. oggi in liquidazione, sono indagati a vario titolo chi per omessa bonifica dei luoghi inquinati rappresentati dalla ex FALC di Novate e dalla discarica del giumello e chi anche per false attestazioni in merito alla conformità alle normative dell'asserita bonifica effettuata. Pronti a costituirsi parti civili, stamani in tribunale erano i difensori del Comune di Novate Mezzola, del Comitato Vallelago, di Legambiente e di Medicina Democratica. Medicina Democratica chiede verità e giustizia. Si è occupata insieme al Comitato da moltissimi anni di tutta la situazione riguardante l'inquinamento dell'area ex FALC e anche della discarica del giumello nel Comune di Samolaco. Medicina Democratica ha subito gravissimi danni alla propria immagine derivanti direttamente dai fatti reato contenuti nel capo di imputazione e per questo ci saranno anche delle richieste risarcitorie formulate in solido sia nei confronti degli imputati che delle società che sono già state indicate come responsabili civili nel capo di imputazione. Noi siamo qui in rappresentanza dei cittadini, in primis dei nostri iscritti, dei nostri circoli della zona che da anni si sono interessati e si sono battuti su questa vicenda. Abbiamo in passato anche presentato alcuni ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale perché avevamo molti dubbi, perplessità sull'iter di bonifica, tant'è che ne è scaturito questo procedimento penale, quindi siamo qui appunto per chiedere che venga stabilita e accertata la responsabilità per chi ha causato questo inquinamento.